Pace bene, buongiorno. Oggi 28 marzo ricordiamo San Castore di Tarso. Ascoltiamo la sua vita e la sua storia. Viene commemorato dal martiriologio geronimiano e dal martiriologio romano il 28 marzo con Sando Roteo e il 27 aprile con Santo Stefano. Questi due santi però non hanno nulla a che fare con San Castore. Secondo la tradizione sarebbe stato martirizzato a Tarso, in Cilicia, nell'attuale Turchia. La città di Tarso ci porta in Turchia, l'attuale Turchia, e ci ricorda anche la figura di San Paolo. La Turchia, questa terra che è un po' vicina ma è anche un po' lontana dal punto di vista culturale. Una terra in cui tuttora non vige una grande libertà religiosa. Anzi, i nostri fratelli cristiani sono spesso tormentati dal fatto di avere una fede differente e sono puniti e messi anche a distanza. Preghiamo quindi per questi nostri fratelli. Noi viviamo in un contesto in cui c'è libertà religiosa. Ossia ognuno può professare il suo credo e lo Stato e la società è chiamata, in un certo senso, a non osteggiare, a non entrare nei meriti di questa scelta, ma a riconoscere diritti uguali per tutti quanti. Ecco, in questo Paese non è ancora così e chi è cristiano sta soffrendo. Ci stringiamo quindi a tutti i nostri fratelli turchi che stanno vivendo questa situazione di difficoltà nella fede, come anche preghiamo per tutti i fratelli delle altre religioni, affinché la verità che è Cristo, che è Dio, possa risplendere nei cuori e portare la pace, la bellezza della comunione al di là dei credi religiosi. E per questo ci affidiamo all'intercessione di San Castore. Prega per noi.